Anche Giulio Ciccone è positivo al Covid-19. Una tegola per il ciclismo italiano e abruzzese a poche ore dall'inizio di un attirreno adriatico che il ciclista della Trek Segafredo avrebbe corso con ambizioni in preparazione al Mondiale di Imola di fine settembre e soprattutto del Giro d'Italia che scatta il prossimo 3 ottobre. Se per la Corsa Rosa ci sono ancora speranze concrete di vederlo allo start, per gli altri due appuntamenti invece sembra difficile, impossibile per la Corsa dei Due Mari. Il test è stato effettuato il 31 agosto in conformità alle norme UCI in vista della partecipazione proprio al terreno adriatico. L'ultima Corsa di Ciccone è stato il campionato italiano dopo il quale ha raggiunto il ritiro in altura programmato con la sua squadra. L'ultimo contatto di Giulio con i compagni di squadra è avvenuto il 23 sera a cena durante la quale come prassi del team è stato mantenuto il distanziamento sociale. Come tutti i membri della squadra presente in ritiro, Ciccone ha soggiornato in una camera singola. Nell'ambito del protocollo Covid-19 all'interno della Trek Segafredo, tutti i corridori e lo staff presenti hanno fatto dei test con tamponi all'arrivo. Tutti, compreso quello di Ciccone, erano risultati negativi. Nonostante il tampone negativo, però a causa di sintomi di stanchezza evidenziati da Ciccone, lo staff medico ha preferito che il corridore tornasse a casa per seguire un programma di allenamento individuale e differente rispetto a quello previsto in ritiro. Nel test del 31 agosto, svolto in ottemperanza al regolamento dei luci, in vista della sua partecipazione alla Tirreno Adriatico, il test dei meno sei giorni, Ciccone è risultato positivo al Covid-19. Lo stesso giorno sono stati testati anche i corridori e lo staff in ritiro, i cui esiti sono stati invece negativi. Un ulteriore test per corridori e staff è stato svolto ieri, in conformità del regolamento UCI, test dei meno tre giorni, per la loro partecipazione alla Tirreno Adriatico. Dunque, forfe per Giulio Ciccone è un problema in più per la squadra di Nibali e per il commissario tecnico azzurro Davide Cassani, perché dopo l'aigueglia di inizio anno, con il successo di Giulio, lo stop causa pandemia e la positività al virus attuale, hanno intralciato quello che doveva essere l'anno della definitiva consacrazione del re del Mortirolo 2019 e della prima maglia gialla abruzzese ad un Tour de France.